Sembra di tornare al 1200 e questa è l'impressione data dall'icone di Luciano Scandroglio in mostra fino a domenica 16 giugno al castello di Monteruzzo di Castiglione Olona, una tecnica antica e sacra che necessita di tempi di produzione lunghissimi, da tre settimane ad alcuni mesi, e preziosissima per l'oro che copre gran parte della composizione. Non tutti possono permettersi l'acquisto, ma tutti ne possono appagare la vista recandosi all'esposizione. L'artista ci racconta come si è appassionata. Io vengo un po' da una storia, da un percorso di ceramista, decoravo oli e acquarelli e quando ho conosciuto l'iconografia mi ha, come posso dire, accatturata, perché mi sono appassionata a questo oro, a queste lumeggiature, a questo metodo, questa tecnica con l'uovo, con la tempera all'uovo. Le tempere sono prodotti naturali, pietre, macinate, terre e quindi, niente, ho iniziato così, mi ha appassionato e da lì ho continuato. Quindi, anche perché è come risalire all'inizio dei tempi, nel 1200, quando i nostri pittori usavano questa tecnica della tempera all'uovo. È un po' particolare e complessa, però diciamo che dà molta soddisfazione, almeno a me la soddisfazione, perché non ho utilizzato questa tecnica soltanto per le icone, ma anche per fare altre immagini. E la complessa tecnica dietro ad ogni scrittura? Allora, si parte da una tavola. La tavola, possibilmente, deve essere di tiglio, senza nodi, non resinosa. Se è grande, ha bisogno di supporti dietro, di traverse, con un legno più duro. Da lì poi si carteggia, si fa la culla e poi si tratta con colla di pelle di coniglio messa a bagno, si appoggia una tela sopra, si mescola la colla di coniglio con il gesso di Bologna o Medon, e si danno tante mani, diverse pennellate, in tutti i sensi, fino a 15, 16, e poi viene carteggiata, lucidata. Il gesso dovrebbe essere tirato a specchio, è importante per la stesura dell'oro. La stesura dell'oro è un lavoro molto complesso, complicato, ed è anche, come posso dire, particolare, perché sotto all'oro bisogna dare una mano, diverse mani anche, di bolo, che in effetti è una terra macinata di argilla, mescolata con il bianco dell'uovo, e dopodiché, lucidato pure quello, si comincia a depositare l'oro con diverse tecniche, si può usare anche, oltre all'acqua e al bianco dell'uovo decantato, montato a neve e decantato, oppure anche con grappa e altri ingredienti che adesso non sto a scendere in particolare. Dopodiché però bisogna avere già prima di iniziare questo lavoro l'idea del disegno che si vuole realizzare, per cui si deve coprire il disegno e dare l'oro, perché l'oro è quello che in pratica dà la luce. Si dice l'icona che è l'immagine dell'invisibile, invisibile, perché effettivamente è come tornare ai tempi della creazione, prima la luce e poi arriva tutto il resto. E di conseguenza si parte poi dopo a decorare con delle campiture e con delle lumbeggiature, finché si arriva a dare forma, a dare anche un aspetto tridimensionale. Per cui, niente, questo è un lavoro. Dopodiché si passa ancora ad ulteriore doratura sul colore, e anche questo è un altro lavoro, e poi alla stesura di una vernice per poterla proteggere. Tornando al discorso iconografico, generalmente non si dice dipingere l'icona, si dice scrivere l'icona, per tutti i suoi significati simbolici, dal colore alle figure, all'atteggiamento, all'oro, c'è proprio questo significato. Scrivere l'icona, è una scrittura l'icona. Ok, questo per quel che riguarda l'ortodossia.